Buongiorno a tutti, oggi parleremo di un argomento, anche questo molto importante. Nella vita spesso ci sente dire meglio preponirsi che pentirsi e oggi l'argomento che tratteremo è la cosiddetta polizza contro gli infortuni. Nessuno si augura nella vita di subire un infortunio, ma questo è un evento che è tutt'altro che impossibile. Iniziamo dicendo che nel bilancio familiare è più conveniente assicurare solo chi in famiglia è produttivo, cioè chi porta a casa i soldi, perché una copertura totale rischierebbe di costare troppo. L'assicurazione nella sua versione completa protegge in caso di morte, di inabilità temporanea, le spese mediche sostenute per l'infortunio e l'invalidità permanente. E quest'ultima è suddivisa sia per gli infortuni professionali che quelli extraprofessionali. Spesso però uno scudo così ampio serve per i lavoratori autonomi, mentre per i lavoratori dipendenti non hanno bisogno di aria temporanea perché nel caso di infortunio continuano a percepire lo stipendio, anche se sono a casa. E per questo riguarda gli infortuni professionali, sono coperti dall'INAIL. Parlando di morte o inabilità permanente, non ci sono problemi di luogo. In qualunque parte del mondo avvenga l'infortunio, l'assicurato o il beneficiario avrà sempre diritto a percepire quello che gli spetta. La maggior parte delle compagnie assicurative non prende in esame l'età della persona. In qualche caso però questa non supera circa i 75 anni. Un altro elemento importante è l'attività lavorativa dichiarata, che può incidere sul premio finale. Basti pensare per esempio alla differenza fra un impiegato e un agente di polizia. E comunque le polizie non coprono tutto quello che può accadere. Ad esempio non vengono risarciti gli infortuni causati con il deltaplano, o quelli che dipendono dall'abuso di droghe o alcol, o quelle avvenute per malore. O il caso in cui si resta coinvolto un incidente stradale, ma ci si accorge di avere la patente scaduta. Dal punto di vista fisico non bisogna comunque confondere l'infortunio con la malattia e quindi con quelle patologie a carattere degenerativo e pregresse, quali le ernie discali o spesso le ratture di alcuni tendini. Infatti il termine infortunio indica un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna. Un altro punto importante sono le cosiddette franchigie, cioè quella parte di danno che non viene rimborsata ma resta a carico di chi ha stipulato la polizza. Quindi chiedete sempre al vostro assicuratore tutte le franchigie previste per le garanzie prestate in polizza, perché spesso con un piccolo sovrapprezzo possono essere eliminate. In caso di morte la polizza assicura un indennizzo pari al massimale previsto senza applicazioni di franchigie e a goderne sarà il beneficiario o i beneficiari dichiarati o legittimi. Un caso specifico e particolarmente sfortunato è quello in cui lo stesso infortunio causa il decesso di entrambi i coniugi. E questa, a seconda delle compagnie, l'evento può dare il diritto agli eredi ad un ulteriore indennizzo che è pari al doppio del capitale dichiarato in polizza. Quindi garantirsi un risarcimento per questo tipo di eventi si tramuta in una serenità in ambito familiare.